Chiara ci dice che ha in portafoglio un ETF sulle materie prime che sta performando ovviamente benissimo visto il periodo storico e ci chiede se ha senso disinvestire una parte del surplus per acquistare sterline d'oro, stesso settore grazie mille e buona giornata Allora, qui la risposta insomma è molto semplice nel senso che queste operazioni di acquisto di determinati strumenti rientrano nella sfera della speculazione cioè investire su un unico strumento come può essere un ETF sulle materie prime o switchare quindi verso un altro investimento rientra nella speculazione piuttosto che nell'investimento classico e quindi quello su cui ci dobbiamo focalizzare e qui abbiamo voluto riportare uno studio di Credit Suisse molto esemplificativo per il caso il quale ci dice sostanzialmente che nell'ambito di una corretta gestione a lungo termine del proprio patrimonio l'82% è rappresentato dalla strategia che si segue le operazioni appunto di acquisto di singoli strumenti vanno nella sfera della strategia e quindi rientrano in quelle che lo studio chiama market timing o addirittura security selection quindi nella selection dei titoli come possiamo vedere pesano ben poco il 6 rispetto all'8% quindi se io sto speculando è un conto e quindi non ha molto senso chiedersi cosa sia meglio o cosa sia peggio in questo momento perché rientra nel campo della speculazione se invece mi dicessero cosa devo fare per investire sicuramente portare al termine una strategia cioè darmi una strategia, un percorso e seguirlo quindi mi sentirei di rispondere così a questa domanda Sì, tra l'altro aggiungo io una cosa sempre rispetto a quello che leggo nella domanda consideriamo che l'ETF sulle materie prime è uno strumento quotato sul mercato regolamentato cioè significa che un mercato come la borsa sostanzialmente in questo caso suppongo sia borsa italiana o qualche altra borsa europea dove ci sono una serie di controlli e regole molto stringenti che sono una garanzia per noi investitori noi viviamo in un'epoca dove ci sono persone che sognano un mondo senza controllo un mondo con i controlli è un mondo molto più sicuro le sterline d'oro che probabilmente avrei visto in qualche pubblicità o magari qualche diciamo promotore che aveva proposto online, offline insomma non sono un mercato altrettanto regolamentato anzi sono un mercato alternativo i mercati alternativi sono quelli alternativi rispetto ai mercati finanziari qua è il problema di questi mercati che hanno meno regole e quindi ci sono meno controlli sono meno liquidi perché così come lo strumento te lo puoi vendere in un minuto non sempre questi mercati sono altrettanto liquidi offrono questa possibilità e soprattutto sono spesso più difficili da capire perché il mercato finanziario i prezzi sono quelli domande e offerte ogni giorno sono pubblici ci sono le autorità che vigilano e si capisce che stiamo facendo i mercati non regolamentati sono molto più pericolosi se qualcuno di voi si ricorda qualche anno fa la vicenda dei diamanti che venivano venduti in banca o altri prodotti di questo tipo ma pure opere d'arte tutte queste cose che fanno che a volte fanno le serate che vi invitano eccetera qual è il pericolo di quegli investimenti? è che se noi non siamo esperti non abbiamo non c'è un controllo stringente delle autorità che dice questo è un mercato regolamentato devi fare ABCDFG cioè una società per quotare un ETF in borsa è sottoposta a un enorme sistema di regole burocrazia e controlli che è una garanzia per noi investitori non è un problema quindi questa è una cosa diciamo importante a prescindere poi da quello che vorrà fare Chiara per la domanda grazie a tutti